Questa campagna elettorale, tanti sono stati i candidati della Locride. Per analizzare il loro risultato, dobbiamo ancora attendere per i candidati Camera e Senato del proporzionale, che ricordiamo erano Gianfranco Sorbara, Giuseppe Serranò, Sandra Polimeno e Maria Carmela Lanzetta. Certo, invece, è il risultato per quanto riguarda i candidati Camera e Senato all'uninominale. In particolare, nel collegio numero 7, Camera dei Deputati, i candidati del territorio che hanno lottato per un posto in Parlamento erano il sidernese Antonio Cutugno, candidato nella lista Partito Valore Umano, che ha ottenuto nel collegio uninominale 1.325 voti. Di questi, 201 solo a Siderno, sua città di residenza. Sempre di Siderno, ma all'uninominale Senato, era il candidato Antonio Ferreri, detto Carbonella, candidato nella lista Italia agli italiani. Ferreri, famoso per i suoi comizi sui generis, nell'ultimo, lo ricordiamo, ha lanciato dal palco ossa di maiale spolpato, ha ottenuto nel suo collegio 1.197 voti, di questi 334 nella città di Siderno. A sinistra, invece, con potere al popolo, era candidato alla Camera al collegio numero 7 Nicola Lucà, che ha ottenuto nel collegio 956 voti, di questi 109 nella sua città roccellaionica. Ottimo risultato, sempre nel collegio numero 7 Gioia Tauro, per il candidato Domenico Mantegna, che ricordiamo anche vice sindaco di Benestare. Mantegna ha ottenuto 4156 voti, con la sua lista liberi e uguali. Mantegna ha ottenuto 4156 voti, con la sua lista liberi e uguali, con la sua lista liberi e uguali, con la sua lista liberi e uguali.